Io conosco un messicano, Carlos. Scoprì che la sorella faceva i porno a Los Angeles. Così aspettò che lei girasse un altro film porno e poi piombò sul set con un fucile a canne mozze. Era completamente impazzito. Sparò al regista. Sparò al cameraman. Sparò all'attore che si infatteva la sorella. E alla fine, sparò perfino a quello che portava i dolci. Però, come sono contento, ragazzi. Insomma, sto per fare un lavoretto con tutti i miei amici. È contento, lui. Eri, Bob. Lo sai chi ha chiesto tue notizie? No, chi? Nessuno. Non gli rompere le scatole, Jesus. Veramente non ho ancora cominciato. Per favore, ragazzi. Non voglio liti tra noi durante questo lavoro. Dove diavolo stai? Vado a spasso. Beh, non ti allontanare troppo. No, no. No.